Montevaccino Premiero Tavernaro è pronto a riprendere la rincorsa alla vetta, ma la pressione psicologica aumenta di giornata in giornata. I gialloglu devono giocare da squadra se vogliono rallentare i premierotti. Vigolana Valsugana I gialloverdi vogliono sfruttare l'onda lunga della vittoria alla prima del ritorno per espugnare Neuto di Calceranica, ma l'andata alla velocità degli attaccanti bianco-blu ha già fatto male ai Valsuganotti.